Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi è arrivato il tweet, è arrivato il tweet da parte del Napoli, De Laurentiis libera Giuntoli per la Juventus e quindi c'è stata l'ufficialità, serata importante questo venerdì e quindi raggiunto l'accordo fra Giuntoli e De Laurentiis abbiamo avuto il tweet da parte del Napoli con la quale appunto De Laurentiis saluta Giuntoli e annuncia la risoluzione consensuale. Ora sì che può iniziare la nuova avventura di Giuntoli con la Juventus, Giuntoli che a questo punto in questo weekend che dovrà arrivare domani potrà accordarsi liberamente da ogni vincolo con Napoli con appunto la sua nuova società, con la Juventus. Nella serata appunto di oggi abbiamo avuto questo accordo tra le parti, quindi risoluzione consensuale con il direttore sportivo, l'ex direttore sportivo del Napoli che ha dovuto rinunciare a 4-5 milioni circa tra vecchie pendenze, stipendi e premi che appunto doveva prendere per aver portato comunque il Napoli sul tetto d'Italia. Quindi Cristiano Giuntoli ha raggiunto l'accordo con il Napoli per la risoluzione consensuale del contratto ora sì che potrà legarsi alla Juventus e quindi questo weekend potrebbe essere il weekend dell'ufficialità di Giuntoli come nuovo direttore sportivo dei Bianconeri. Giuntoli che ha dovuto lasciare sul tavolo della trattativa, come ho detto prima, circa 4-5 milioni di euro tra, ripeto, vecchie pendenze, stipendi, premi vari, quindi comunque una bella somma per poter però iniziare questa nuova avventura con la Juventus. Vi leggo un attimo il tweet del Napoli perché è molto importante, molto freddo tra l'altro il tweet di De Laurentiis perché è un tweet analitico dove appunto si saluta Giuntoli e basta, quindi molto molto analitico, molto freddo il tweet del Napoli secondo me. Il calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra. Questo è il tweet freddissimo del Napoli con la quale appunto si congeda il calcio Napoli alla figura di Cristiano Giuntoli, insomma potevano anche fare un tweet un po' più caloroso perché potevano anche ringraziare Giuntoli per aver portato il Napoli a vincere lo Scudetto, per aver contribuito a vincere lo Scudetto, invece niente di tutto questo, c'è un tweet freddissimo con la quale si ringrazia per gli 8 anni di collaborazione con il presidente Aurelio De Laurentiis, quindi molto molto freddo. Però questo weekend, come ho detto prima, sarà un weekend fondamentale perché da domani, primo luglio, Giuntoli sarà libero di poter firmare con la Juventus il nuovo contratto che sarà a lunga scadenza, si stanno ancora definendo gli ultimi dettagli formali sui quali si lavorerà appunto in questo weekend, ma insomma sembra tutto abbastanza già scritto. Bisognerà vedere l'accordo se sarà quinquennale come patuito tempo fa o se diventerà quadriennale, però sono comunque delle sottigliezze. L'importante è che Giuntoli arriverà quindi alla Juventus, lui avrà la responsabilità della prima squadra e sarà capo dell'area sport insieme a Manna, quindi Manna, nuovo braccio destro dell'ex Napoli. Quindi Manna che tra l'altro ha curato la parte iniziale di questo calciomercato, comunque come ho detto prima resterà all'interno dello staff di Giuntoli, sarà il braccio destro, il vice dell'ex Napoli, mentre tutta l'area che riguarda il settore giovanile rientrerà nelle mansioni di Francesco Calvo, ma soprattutto di Claudio Chiellini. Claudio Chiellini, fratello gemello di Giorgio Chiellini, che è stato ufficializzato qualche giorno fa come nuovo direttore sportivo della Next Gen, quindi il settore giovanile sarà competenza di Calvo e di Chiellini, non sarà competenza di Cristiano Giuntoli, Giuntoli lavorerà per la prima squadra. Insomma, finalmente Giuntoli alla Juventus, avevo parlato appunto della cronaca, vi do la mia opinione, che sarà già abbastanza spoilerata in alcuni video che ho portato appunto sul canale che riguardava appunto la Juventus. Io ho criticato la Juve perché secondo me Giuntoli doveva arrivare molto molto prima, poteva dare una mano anche la Juventus a liberare prima Cristiano Giuntoli e non invece costringere praticamente l'ex direttore sportivo del Napoli a rinunciare comunque a dei premi pur di vestire il ruolo di direttore sportivo della Juventus. Insomma, si poteva trovare secondo me un accordo almeno 20 giorni fa. Questo perché Manna non è che non sia capace, ma comunque se tu con il nuovo progetto avevi pensato, avevi ideato di far lavorare Manna e Giuntoli a stretto contatto, insomma si è perso tempo perché siamo al primo luglio, siamo in ritardo nella costruzione dello staff di Allegri, siamo in ritardo anche nella costruzione nello staff dirigenziale perché Giuntoli, ripeto, doveva arrivare prima come anche probabilmente anche Claudio Chiellini doveva essere annunciato prima come direttore sportivo della Next Gen. Insomma, qualche ritardo che spero non possa, non comprometta comunque il lavoro che deve fare l'ex direttore sportivo. Sono molto curioso di vedere come verrà annunciato da parte della Juventus con quale mansione nello specifico, ripeto, lui avrà la responsabilità della prima squadra, sarà l'uomo che farà il mercato insieme a Manna, però, insomma, sono curioso di vedere come verrà annunciato e con che formula, se sarà un quadriennale, un quinquennale, perché comunque Claudio Chiellini è stato annunciato come direttore della Next Gen, direttore sportivo, ma con un contratto annuale. Quindi sono curioso di vedere come verrà annunciato Cristiano Giuntoli. Ovviamente per lui non ci sarà l'annuale, sarà un contratto a lungo termine, però, insomma, sono curioso di rileggere quello che verrà appunto fatto in maniera ufficiale. Insomma, questo weekend sarà un weekend fondamentale, verranno sicuramente definiti gli ultimi dettagli, forse già domani verrà ufficializzato Giuntoli e speriamo, perché siamo già in completo ritardo, siamo già in ritardo rispetto alle altre formazioni nel fare mercato, quindi speriamo si possa accelerare una volta per tutte. Ragazzi, questo era il video sulla Juventus, Giuntoli che ha ufficializzato la risoluzione consensuale con il Napoli e adesso aspettiamo, aspettiamo l'ufficialità e ne commenteremo ovviamente su questo canale. Verrà appunto commentato con un video l'ufficialità nel caso di Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juventus. Ragazzi, questo era il video su Giuntoli, mettete like se vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non potete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri, ragazzi, però voglio sapere soprattutto la vostra nello specifico, non dimenticate di mettere un commento qui sotto. Ciao a tutti da Domenico Versa, vi saluto, ciao a tutti raga!